Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Mai giocato a un roguelike minerario, ecco, questa è la roadmap, uscirà nella seconda metà del 2025 in 1.0, al momento è in Early Access, ma il feature score del gioco è già completo, quindi ci sono già contenuti per giocare e rigiocare un bel po'. Allora, abbiamo la EOS Mail dove riceviamo notizie riguardo i nostri fallimenti, gli upgrades ci permettono come ogni buon roguelike di spendere risorse che raccogliamo durante le nostre missioni per potenziarci nelle run successive, ma possiamo anche iniziare una nuova partita, abbiamo vari livelli di difficoltà al momento o solo questo, e possiamo scegliere delle qualifications, cioè ne abbiamo due da scegliere, quindi possiamo attivare questa e sono degli edifici che ci vengono dati gratuitamente. Possiamo scegliere un preset della nostra piattaforma con i relativi upgrade, adesso poi a breve capirete di cosa sto parlando, praticamente abbiamo la nostra piattaforma, non credo, abbiamo nient'altro da fare. Possiamo scegliere un preset, ma in realtà non ce l'abbiamo ancora, adesso vi faccio vedere. Perché? Perché si parte dallo spazio e si scende con una navicella, insomma, e si va giù. Si va sul pianeta e si arriva in un punto. In questo punto viene dispiegata la nostra piattaforma petrolifera e in questo caso, vedete qua in alto, c'è il giorno che inizierà a scorrere. Qua abbiamo le persone, abbiamo i minatori, abbiamo i trasportatori, gli hauler, qua li chiamano i carriers, e le guardie. È un massimale di persone. Questa è la piattaforma che dobbiamo difendere. Questa è la piattaforma dove porteremo i materiali che scaviamo. Con Enter iniziamo. A questo punto ci verranno dati degli obiettivi, cioè scaviamo una parte di tunnel, dopodiché scaviamo un po' alla Oxygen Not Included, in pratica clicchiamo, cliccando una seconda volta diamo la priorità, qua possiamo andare a costruire, qua in alto abbiamo le risorse Iron, Swarmlet e il Coal. Quando raggiungiamo 4 di Coal possiamo scavare ulteriormente sotto. Le prime due torrette di difesa, vedete che ne possiamo mettere due, sono gratuite, quindi ne metto una qui e una qui, ne abbiamo tutte e due, ne possiamo pagando mettere altre. E ci costano queste pietre qua. Noi intanto stiamo scegliendo cosa scavare. Io do gli ordini e qua sulla piattaforma, è lì, è il preset che vi faccio vedere prima, possiamo costruire le barracks che ci permettono di reclutare nuova gente, la factory che ci produce Iron o Swarmlet, ogni edificio, adesso non ho letto cosa fa, ogni edificio riduce il cooldown, quindi ne facciamo più di uno, possiamo fare più di uno, e qua abbiamo il laboratorio che ci permette la ricerca di nuovi aggiornamenti. Vedete che intanto io ho già trovato delle cose, e qua possiamo scavare finché vogliamo, cioè ce n'è veramente tanto da scavare, possiamo farci tutti i tunnel che vogliamo, intanto vedete che qui abbiamo già altre cose da scavare, e vedete che c'è il carrier che la porta su. Quando la giornata finisce, arriva al completo, ritiriamo tutto e ci saranno gli attacchi dei nemici. In questo caso facciamo anche questo, vediamo qua, possiamo reclutare qualcuno, ma al momento non abbiamo risorse, e soprattutto sì, adesso abbiamo sette spazi, quindi possiamo reclutare altre tre persone, dobbiamo aspettare che però il carrier arrivi e porti tutto in base, vedete che pian piano sta facendo. Possiamo, eh, non abbiamo ancora abbastanza materiali, vedete che però li sta portando, sta portando questo blu, probabilmente adesso salirà di uno e potrò assumere questo tizio, che è un nuovo laboratore. Ma io assumere qualcuno in difesa però, adesso vedete che lo sta portando su, arriva qui e adesso posso costruire. Faccio una guardia e inizio a caricare, perché mi serve. Qua invece abbiamo i potenziamenti, quindi spendendo risorse possiamo aumentare la resilienza dei nostri dipendenti, il jetpack che usano per scendere, renderli più veloci, aumentare la potenza di trivellazione e di fucile. E avendo due laboratori, accediamo a questo, tre e questi, quattro e questi, e così via. Queste sono le basi del gioco, il gioco che dà assolutamente dipendenza sul lungo periodo. Intanto vediamo che qua, vediamo, vediamo intanto qua cosa sta facendo, perché sta caricando, quindi a breve potremo produrre qualcosa. Eh, mannaggia, non so cosa sia questo, ma comunque do priorità. Vedete che adesso qua possiamo produrre uno. Ok, possiamo scegliere una tecnologia, poison gun o rocket watch tower? Questa, la possiamo fare? No, perché ci mancano quattro e non ne abbiamo zero, quindi niente. Però vedete che andando avanti si sbloccano nuove tecnologie. Adesso sto scavando questo, dovremmo darci da fare, ma non abbiamo abbastanza... Intanto do... Oh no no no, fermi, 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 tutto col tasso destro si annulla. Scaviamo, scaviamo. Stanno arrivando. Tra poco, adesso dovremo dare l'ordine di rientrare, perché la giornata sta finendo, tengo premuto R e si ritirano. Recupereremo domani, però portandoli qui non li perdiamo, perché se muoiono tutti è un problema. E adesso inizia l'attacco, l'ondata. Ma come voi sapete, chi mi conosce da più tempo, sa che io non amo i tower defense, però anche questo ha, diciamo, il suo parquet. Posso costruire qualcosa? No, niente di niente. Intanto vedete che stiamo attaccando un po' sulla falsarita di Space Inveders. Stiamo attaccando. Vediamo, si difendono. Dai, dai, adesso sono vicini, quindi pian piano adesso li dovremmo metterli uguali. Questo purtroppo spara troppo poco spesso e ci stanno già attaccando il core. Sparate! E questo non spara più qua, perché è fuori dall'obiettivo. E il core dovremmo farcela, anche se in realtà dobbiamo potenziarlo quanto prima. Appena finisce l'ondata, appena abbiamo spianato tutti, possiamo andare avanti a scavare e recuperare i materiali che ci mancano. Qua c'è un punto esclamativo che mi vuol dire che qui c'è una minaccia. Infatti vedete che sta arrivando la minaccia. Però adesso dovrebbe essere finito. Ripartiamo, ripartiamo velocissimi. Possiamo assumere qualcuno. Io assumerei un altro carrier, perché dobbiamo portare tutto su velocemente. Scavate velocemente qua. Adesso, oltre a questo animaletto qui, credo dovremmo avere un trasportatore umano che almeno mi porta su un po' di roba. Vedete che qua inizia un pochino a farsi complicata la cosa. Qua c'è un masso di quelli un pochino più duri da abbattere. Infatti vedete che ci stiamo mettendo più tempo del dovuto. Perfetto. Do la priorità che recuperiamo sempre più materiali. Qua mi dicono che è pronto la produzione raffinando quello che raccolgono di un altro di questi. Io vorrei piazzare un fucile anche qui. Perfetto. Perché così ci difendiamo un po' meglio di come ci siamo divisi dall'altra parte. Possiamo scavare qui, possiamo scavare qui, possiamo scavare qua. Abbiamo pochi minatori, quindi siamo un po'... Bellino il fondale che si muove in base a quanto scendiamo, perché crea comunque immersività. dobbiamo abbattere anche questo però, perché vedete che però si interrompono subito per farlo. È un peccato. Lo lasciano lì e proprio non riescono a capire qual è la priorità vera. Questo non so cosa sia onestamente. Comunque qui abbiamo... Questo continua a portare a casa, non so cosa. Qua c'è anche un contatore di non so cosa. Oro forse. Comunque sta arrivando alla fine della giornata. Possiamo scegliere la Laser Station. Si attiva di notte e praticamente la costruzione rilascia raggi che fanno danno a tutte le unità. Ogni edificio di questo tipo aumenta il danno nel 30%. Cooldown 18 secondi. Minigun turret, machine gun turret catalyser. Aumenta... Eh... Sì. Prendo un potenziamento... Eh, devo costruirlo però. Questo è un laboratorio. Il laboratorio ce l'abbiamo già. Non possiamo spendere nulla per potenziare. Possiamo assumere qualcuno, ma io dovrei prendere una guardia in più per la notte. e diciamo che ci siamo quasi. Quindi annullo tutto e si va... Vanno via piuttosto veloci. Abbiamo stato riuscito il punto esclamativo da qualche parte. Però... Ecco qua produciamo un altro. Eh, abbiamo più torrette. Adesso... Adesso dovremmo essere un po' più difesi. Qui attaccherà qualcuno, quindi se qui c'è rimasto qualcuno è un problema. Infatti, vedete che sta passando. E adesso arrivano. Però iniziamo ad attaccarli anche in modo un pochino più attivo anche da questa parte rispetto a che verso lo lancia razzi. Infatti, ci gestiamo un pelino meglio di prima. Per quanto questa torretta qui non copre quelli che arrivano qui. No, vabbè. Decisamente meglio di prima che abbiamo preso comunque quasi un mezzo quadratino di danno. Quindi direi che va molto bene. Tutto molto bene. Andate, andate, andate avanti. Siamo arrivati forse sul fondo. Non abbiamo trovato ancora nessun... Io do degli incarichi un po' strani in giro giusto per... Così li faccio unire. Ah, massimo di ordine. Abbiamo un massimo di ordine. Siamo in profondità 50 su 150 quindi si può scendere comunque un pelino di più. Siamo un terzo. Possiamo potenziare qualcosa. Facciamo un jet upgrade così potenziamo anche la velocità dei lavoratori. Ecco, abbiamo un bel po' di roba interessante. Ecco, questo è uno di quelli che ci consentirà trovandone quattro potrebbero andare via. Comunque, togliere questo. Tanto ci interessa anche questo via. Qua produciamo. Bisogna... È un po' incrementale come cosa quindi bisogna cliccare ogni volta che si libera. Possiamo assumere qualcuno? Probabilmente no. Qua c'è qualcos'altro da scalare. Vedete che adesso appena ci recupereranno questo qui adesso con la Q possiamo accelerare. Vedete che appena recupererà questo vedrete che salirà uno su quattro. Ok. E quindi praticamente si va avanti così. Possiamo... Abbiamo il massimo del personale disponibile. Io piazzerei un'altra torretta anche di qua. Così ci difendiamo. E ogni tanto si trova qualcosa anche di sotto. Infatti le guardie operano sotto nella miniera. Infatti intervengono in quel caso lì. Via 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 tutti. Disattivo la velocità elevata. Perché lasciandola attiva va tutto velocizzato ed è un problema. Qua passerà qualcosa e non so onestamente se porterà via le risorse che si trovano qui. No. Mi sembrerebbe di no. Non ho capito se questo passa magari per crearci un po' di problemi se lasciamo gente a lavorare di notte. Comunque adesso qui si scherza già un po' meno perché di di insettarci ce ne sono un po'. Però forse ce la facciamo avendo due torrette tre torrette e un lancio missili. Più che altro sono più coriacei questi. però avendo anche il missile magari lo battiamo come senza troppi problemi. Sì no è andata via liscissima questa. Andate avanti ah ok andiamo avanti dai. Capiamo qua qua e poi cerchiamo un punto dove andare giù perché qua non si può minare. Fate anche questo dai così. vediamo se troviamo qualcosa. Priorità questo. Io non vorrei che adesso che trovano questo ok che mollino tutto e vengano di qua. Poi probabilmente magari esiste anche una logica in cui scaviamo materiali di questo tipo e troviamo un metallo come si fa su minecraft dove ci sono o qua magari arriva un mostro o qualcosa in cui magari con la vicinanza di determinati materiali troviamo qualcosa di raro non lo so comunque qua ci sta volendo una vita come farcela possiamo costruire altro questo con 5 improve l'attack ok l'ho costruito così potenziamo l'attacco delle cose allora intanto qua abbiamo trovato altre cose interessanti io posso voglio uccidere che scavo anche qua stanno attaccando velocizzo ok adesso scavano di qua penso che a breve dobbiamo andare lo lascio velocizzato in modo da ok andiamo 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 poi la prossima volta andiamo a scavare anche questi dai devo continuare a cliccare ogni volta che non lo faccio perdo tempo possiamo upgrade del drill ok dai vediamo come va mani anche tantissimi stavolta provo ad accelerare così vediamo l'esito tanto qua non abbiamo un controllo diretto su quello che possiamo fare quindi acceleriamo e vediamo come va ma credo andrà piuttosto bene anche se sono due avvicinati forse qualche sì quattro avvicinati forse non ce la facciamo proprio così agevolmente ma forse neanche 5 avvicinati eh però via 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 dai ragazzi poi bisogna imparare a non perdere tempo qua si può scendere quindi proviamo da qua andiamo giù cavate con priorità qua eh anche se fargli comunicare le due parti qua non sarebbe male vabbè acceleriamo che diamo un'occhiata poi come va avanti per tornare indietro vabbè adesso abbiamo la la trivella più più resistente qua sotto sperando si possa scavare vediamo qua sta uscendo qualcosa non si può scendere neanche da lì abbiamo raggiunto il limite eh sì ok quindi non so in base a cosa mi da questi aggiornamenti comunque toaletta automatica slow wind laser rocket launcher lancia dei razzi toaletta automatica sì dai vediamo possiamo fare qui la toaletta automatica ma non abbiamo i mezzi ricerco eh sì abbiamo tutto finito qua cioè non si va sotto probabilmente il il metallo da ricercare è tutto qua all'interno di questi di questi terreni qua dobbiamo trovare tutto all'interno di questo ritirata poi diamo i compiti anche dopo perché mi sa che non si può andare oltre comunque vediamo adesso chi arriva eh ondate sempre più posso allontanare anche tra l'altro non avevo eh qua è tutto chiuso non c'è modo di andare altrove eh adesso arrivano anche da qui ma intanto qua ce la dovremmo fare lì passa il vermone perché nulla mi vieta di andare a scavare ancora di notte sotto credo con la rischia poi però di perdere tutti vabbè scaviamo qua acceleriamo e dobbiamo trovare questo maledetto materiale qui anche perché qua è chiuso quindi eccolo perfetto andate avanti di qua adesso ok questo assolutamente e anche questo bene ne abbiamo trovati i due ne abbiamo trovati i tre in realtà quindi bisogna cercare l'ultimo ah spettacolo ci sono le frane è franata della della roba e sono rimasti eccolo lì l'ultimo poi ce ne andiamo togliamo tutto scaviamo questi due e poi ce ne andiamo ho trovato il ok vediamo sempre se sopravviviamo questa ondata qua queste qua viola avanzano molto più velocemente sarebbe da giocare su velocità normale però vediamo se sopravviviamo ma penso di sì salvo che appena finiti quelli piccoli perché facciamo quelli grossi ma dovremmo farcela agilmente abbastanza agilmente credo sì 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 perfetto diminuisco prendo uno di questi dai scavate l'ultimo e poi abbiamo finito tolgo la priorità a tutti questi metto priorità a questi perché dovete scavare l'ultimo e con l'ultimo ce ne possiamo andare perfetto appena lo recuperano ce ne andiamo no io non volevo fare questo ah perché passo direttamente alla notte ok ho sbagliato la ritirata anticipa la notte niente ho sbagliato raggio sbagliato devo uh qua potremmo anche lasciarci le piume sono tanti posso costruire qualcosa no e lancia razzi vediamo se funziona potrebbe salvarci davvero questo si ha un po' di cooldown speriamo di farcela eh l'abbiamo rischiata grossa ok niente recuperate l'ultimo e ce ne andiamo ok dai l'ultimo c'è ce ne andiamo praticamente cosa succede adesso drilling next morning ok la mattina successiva ce ne andiamo vediamo se ho un'altra cosa da piazzare anche qui magari no 7 magari riusciamo eh no ci manca lo swarm lì swarm swarm coso lì che è qui quindi scavate immediatamente questi grazie se me lo recuperate subito mi fate un favore perché facciamo quel potenziamento lì e magari ce la caviamo anche mettiamo un lanciarazzi anche di qua sì eh però c'è anche questa torretta automatica questa dai metti la lì va bene facciamo l'ultima ondata vediamo se sopravviviamo e poi andiamo avanti a scavare è molto bello il gioco comunque non mi dispiace eh no non posso fare nient'altro ma questi lanciano razzi completamente a caso però la torretta automatica è un bel un bel ratio di fuoco anche a velocità normale non è male beh forse forse decisamente meglio di come è andata prima siamo un po' più deboli su questo lato destro perché non non hanno quelle ratio di fuoco lì però vediamo se ce la facciamo ok dai sì ce l'abbiamo fatta ok a questo punto demoliamo tutto quello che non abbiamo scavato e andiamo a livello successivo allora edifici identici migliorano con i parametri del loro lavoro nella descrizione ok va bene la piattaforma resta questa dobbiamo trovare in altri 4 e qua si inizia a scavare una nuova una nuova zona sta già passando il giorno e noi praticamente possiamo andare a scavare accelerando il tempo ovviamente e vediamo e troveremo altri metalli e altre cose qua abbiamo trovato qualcosa di diverso che non so cosa sia nuovo tipo di metallo vediamo se ce lo aggiorna e ci dice che abbiamo trovato qualcosa di interessante più uno più uno no non so cosa sia comunque niente questo è non so adesso se possa uscire comunque ci sono le qualification praticamente devo uccidere una Ragnar come missione e avere almeno 10 laboratori alla fine del contratto ok no devo uscire e tutte le cose non salvate ok bene ragazzi questo è la Dailcore questa è la roadmap spero vi sia piaciuto gioco che non mi dispiace per niente fatemi sapere alla prossima e ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti